Buon pomeriggio a tutti quanti, siamo al centro sportivo di Formello e c'è in scena la conferenza stampa di presentazione del match di Europa League nel match day to Lazio-Nizza. Al nostro fianco il tecnico della Lazio Marco Baroni, il centrocapista Matteo Ghendusi. Ringrazio fin da adesso Valerio Stigliano per la traduzione, vi ricordo che dovremo comunque effettuare la traduzione dall'italiano al francese, dal francese all'italiano per quanto riguarda le fasi di questa conferenza stampa. Nel frattempo andiamo ok per le domande. Cardone, Repubblica, prego. Buongiorno mister, che Lazio ci dobbiamo aspettare domani, che tipo di partita sarà e poi nei momenti positivi, quando c'è entusiasmo, credo che sia il momento migliore per lavorare anche sui difetti della squadra. Su che difetti della Lazio sta lavorando? Solo questo. Grazie. Allora, sicuramente domani abbiamo un avversario complicato, un avversario che ha una buona squadra, una squadra che fa un buon calcio, un 3-4-2-1 che spesso diventa un 3-4-3. Ci sarà da gestire una doppia ampiezza, una squadra dove occorrerà veramente una miglior Lazio. I ragazzi stanno bene, abbiamo recuperato. Oggi c'è l'ultima seduta, facciamo ancora qualche valutazione. Ma noi lavoriamo, lavoriamo a testa bassa perché sappiamo che il lavoro poi ci porta a colmare, ma a crescere, a creare questa identità forte che vogliamo che la nostra squadra abbia. Quindi, da questo punto di vista, come vi ho già detto, il gruppo è particolarmente partecipativo e quindi anche se in queste settimane, no, un po' serrate, abbiamo pochi allenamenti, ma sono allenamenti intensi dal punto di vista anche attentivo, dove cerchiamo di mettere a frutto tutto quello che possiamo. Prego, Valerio. Allora, la prima question di questa conferenza di Prost avant le match, oggi c'è di Nice-Lazio, c'était quel Lazio dovrebbe s'attendre per le match di domani? Domani, on avrà un adversario molto complicato, c'è il nostro mistero ballone che risponde. On avrà una buona equipe davanti noi, il giova sempre con un 3-4-2-1, qui devono sempre un 3-4-3, quindi bisogna la miglior Lazio, sicuramente. C'è un'equipe che va molto bene, i giovi sono ben recuperati, e noi lavoriamo molto per che il lavoro ci ammettino a grandire e a creare una forte identità, c'è quello che vogliamo per la nostra equipe. Non abbiamo avuto molto di attrazione, ma abbiamo lavorato intensamente. Proseguiamo, Ceri, prego. Buonasera Ministro, le volevo chiedere, nel giro di pochi giorni, poche settimane, si è passati da un certo scetticismo, o meglio diffidenza, nei confronti della Lazio per i tanti giocatori nuovi, per il nuovo progetto, a una certa euforia determinata dai risultati positivi, ma ancora di più dal gioco che la squadra sta esprimendo. Le volevo chiedere se questo è un po' la preoccupa, nel senso che magari poi l'eccessivo entusiasmo può anche essere pericoloso, o se comunque invece è contento di poter lavorare in questo modo. E poi una seconda domanda, se posso, immagino che la formazione di domani ricalcherà un pochino quella di giovedì scorso, nel senso che ci saranno molti cambi, se si aspetta un ulteriore salto di qualità da quei giocatori che hanno giocato di meno e che ad Hamburgo però sono andati molto bene, potrei fare dei nomi, ma tanto sappiamo bene di chi si tratta. Allora, no, l'entusiasmo. L'entusiasmo è uno degli aspetti più importanti che una squadra deve avere, la gioia, la voglia di venire al campo. L'equilibrio, è chiaro che l'equilibrio è fondamentale, noi dobbiamo essere sempre, capire che questi momenti, come a me piace un po' sentire il dolore quando c'è la sconfitta, e anche non voglio dire trasferirla a squadra, però questa è anche una squadra che sente, e quindi questo poi ti aiuta anche a dare il meglio, e nello stesso tempo dobbiamo essere bravi ed equilibrati a gestire anche i momenti in cui vengono i risultati. Ma quello che è la cosa più importante è il lavoro e l'aspetto prestativo, si parte sempre da lì. Questi sono i due aspetti che poi ti portano a raggiungere gli obiettivi che vogliamo. I cambi, un giorno vediamo se li riusciamo a coniugare per non cambiare, per non chiamare, cambio. Io ho dei ragazzi veramente che ci vogliono dare, che lavorano forte. In questo momento la mia attenzione, l'attenzione del mio staff è proprio anche rivolta a gestire anche queste risorse, perché veramente queste partite così ravvicinate, viaggi, tutte queste situazioni ti espongono anche proprio a uno stress sia fisico, ma più che altro anche dal punto di vista proprio cognitivo, mentale, che spesso è quello più difficile da gestire. Qualcosa cambieremo, perché appunto dobbiamo anche andare alla ricerca di queste energie, e sulle risposte non ho dubbio, perché li vedo allenare, quindi so che chi va in campo, oltre a godere la fiducia mia, ma anche dei compagni, darà tutto quello che ha. Due domande ancora per il ministro Baroni, la prima è se l'euphorie per il risultato e per il gioco, che l'attenzione ha mostrato, l'attenzione, 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 l'attenzione un po' la seconda domanda, se si è il fatto tendere molto dei rimplassanti, dei giocatori che hanno meno giocato e ancora più di risultato. La prima è la risposta è l'entusiasmo, che è sicuro molto importante, la gioia di venire e s'entraere qui e sul terreno, ma soprattutto è fondamentale di tenere un equilibrio, abbiamo bisogno di comprendere, è importante anche sentire, per esempio, la dolore nella difesa, io le sento, io ho spero di la trasferere ai giocatori, è ciò che ciò 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 ciò? E la cosa più importante è sempre il lavoro di risultato per rinno gli obiettivi che ciò 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 ciò, Per rapporto ai remplaçanti, bisogna arrêter di chiedere ai remplaçanti ai jugatori che giochino meno. Bisogna gestire bene le risorse, perché avremo molto stress, molti giochi, a livello fisico e psicologico. Surtro che ci saranno qualcosa in questo match, ma non ho dubbio su la risposta dei jugatori che chiedere ai remplaçanti. Rindone. Buonasera, a proposito dei cambiamenti di formazione. Pensa di far giocare solo uno tra D.A. e Castellanos. Poi, un approfondimento sui mediani, visto che c'è qui Gendunzi. Sono stati due giocatori che hanno percorso più chilometri a Torino. Nell'idea sua dei mediani che ci ha sempre descritto, questo credo che sia un'inquadratura precisa. Tra l'altro, Gendunzi segna, Rovella recupera il pallone che poi lancia il contropiede del secondo gol. E' questo che devono fare i suoi mediani? Sì, sì. Qualche volta vi hanno usato questo termine, tutto campista. Ma questo è l'aspetto che secondo me nella mobilità di squadra è chiaro che i centrocampisti che hanno anche un raggio d'azione maggiore e devono essere molto bravi ed equilibrati nelle due fasi, sia nel possesso che anche nella fase non possesso, sono chiaramente due ruoli dove abbiamo dei giocatori intanto molto bravi ma anche che si spendono per la squadra. È chiaro poi che vanno anche sostenuti, questa è una cosa che vi ho già detto, ma la squadra lo sta facendo sempre meglio e da questo punto di vista, insomma, ecco, sono convinto ora al di là di chi andrà in campo. Anche lì guarderò un attimino un po' il minutaggio delle ultime partite però sicuramente sarà un centrocampo all'altezza della partita perché, come ho detto prima, sarà una partita molto, molto difficile. Quindi, par rapporto, il parlait del milio del terreno, la questione c'était Ganduzzi, il rivela, il milio del terreno che abbiamo visto a Torino, ils hanno marchato, ils hanno corruto molti chilometri, c'è questa la vostra idea di gioco per il milio del terreno? Il ha detto, sì, il dice sempre tutto il terreno, c'è dei giocatori di tutto il terreno, la mobilità dell'equipe demanda un equilibrio al milio, dans le due fasi del gioco. e quindi abbiamo dei giocatori molto forti, che danno molto, ma devono essere anche sostenuti da tutta l'equipe. Dopo, chi va giocare al milio? Beh, io vorrei guardare soprattutto le minuti che hanno giocato nel terreno, e io vorrei prendere le mie decisioni. La Cagnina. Buonasera, Bruno. Le volevo chiedere, ultimamente la Lazio ha evidenziato crescita e qualità, però prende sempre molti gol, e domani c'è il Nizza, che è una squadra, come lei ben saprà, segna molto e è pericolosa in zona gol. Volevo capire che in questa prima fase della stagione ha preso qualche provvedimento in tal senso, per equilibrare di più la funzione tattica. Grazie. No, ma noi dobbiamo lavorare su questo, ma non per i gol subiti, che poi ora non voglio stare a fare un'analisi, però ci sono anche dei dati. La squadra è comunque quarta per minor tiri subiti nello specchio della porta, ed è anche quarta come miglior pressing di squadra. Quindi questi dati mi danno anche la dimensione che la squadra sta lavorando sempre di più in una miglior fase difensiva. è chiaro che noi vogliamo far gol, vogliamo attaccare, vogliamo tirare in porta. Questo ve l'ho detto fino alla prima mia conferenza, e non a caso in questo momento la squadra comunque è terza come miglior numero di reti. Quindi io credo che all'interno di questo la squadra in questo momento ha anche un buon equilibrio. Effettivamente abbiamo sei partite e dieci gol, però molti di questi gol hanno anche una natura che secondo me poi con il tempo non prenderemo più. Grazie. Buon parla sicuramente della qualità di Celazio, ma l'unice che ci sarà in fase di domani è una squadra che ha molto più di buti, mentre la Lalson ha preso molto molto dopo il primo della settimana. Qu'è ciò che vi dite? Quindi sicuramente abbiamo bisogno di migliorare, ma comunque abbiamo siamo quattrini al livello di tiri cadere venuto delle altre squadre, siamo quattrini al livello di miglior pressing generale di squadra. Ciò vuol dire che abbiamo lavorato bene sulla fase difensiva, ma soprattutto abbiamo vogliamo marcare, e c'è per questo che siamo il terzo al livello dei numeri di buti marati nella Serie A. Quindi abbiamo bisogno di trovare un buon equilibrio, e c'è anche che nei primi sei match abbiamo incassato 10 buti, ma ci sono certi buti che sicuramente ne vanno più incassati. On va lavorare su questo. Poi si chiama di qua, Rocca. Salve mister. Lei ha sempre parlato bene della squadra, dei suoi ragazzi, del lavoro che avete fatto fino a questo momento, però una cosa è lavorare, un'altra cosa è riuscire. Le chiedo se anche lei è sorpreso dal rendimento della sua squadra, se si aspettava questo livello in così poche partite. E poi le volevo fare un'altra domanda su un singolo. No, perché io dal primo giorno, prima di partire, proprio qui, abbiamo fatto una riunione con la squadra, dove ho fatto vedere i video, alcuni dati, e ho detto che io allenavo una squadra forte. e quindi dal primo giorno abbiamo lavorato su questo. Avevo la fortuna di allenare una squadra forte. Quindi, detto questo, magari rischio di ripetermi, ma lo faccio molto volentieri, la partecipazione della squadra con cui ho trovato dal primo giorno di lavoro, questo ci permette poi di portare sul campo il lavoro durante la settimana. però, ripeto, ora in questo momento ecco, non voglio veramente io sono contento, è tutto, però dobbiamo lavorare, siamo appena partiti, c'è tanto lavoro da mettere dentro e credetemi, la mia testa, ma ogni volta che lavoriamo con la squadra pensiamo veramente solo e unicamente al lavoro e al miglioramento perché è l'unica strada che ci può permettere di raggiungere obiettivi. E l'altra cosa che le volevo chiedere è il subesino, perché si parla poco di questo ragazzo e chiedo se per la sua squadra avere comunque la possibilità di schierare un giocatore del genere con la sua esperienza può anche rappresentare un lusso, cioè poter mandare in campo un ragazzo del genere che sai che quando mandi in campo comunque risponderà sempre presente. Fondamentale, fondamentale sotto tutti gli aspetti, intanto in questo momento ha una condizione fisica straripante, sta benissimo, lui lo sa, lo percepisce, io so di allenare poi dei ragazzi che è oltre a entrare nei momenti più importanti della partita, perché io spesso sarò ripetitivo, ma chi va dentro va dentro nel momento più importante della partita e basta vedere gli ultimi minuti di Torino come il risultato è cambiato. quindi da questo punto di vista Vecino dà un grandissimo apporto ma anche durante la settimana nel lavoro ma come tanti altri ragazzi e quindi sono d'accordo è una risorsa fondamentale per noi. Buongiorno, due questioni ancora per il mister Baroni. Est-ce che vous êtes surpris parlo nel niveau che l'équipe ha raggiunto in non molti match? Non sono sorpris depuis il primo giorno che sono arrivato qui e ho saputo che avevo una buona equipe di gioco molto forte. è la partecipazione e la disponibilità dell'equipe che fa la differenza. Tutto questo lo lavoriamo nella settimana e lo troviamo sul terreno quando gioco il match. Sono molto contento ma è ancora molto a fare e noi pensiamo che a noi migliorare durante la settimana e durante il nostro lavoro. La seconda question è per rapporto a Vecino e l'esperienza è un luxo per il l'azio. Il mistero ha detto che è un giro fondamentale ha in più una condizione physique superbe e il lo sape e entra sempre nei momenti più importanti del match. Lui come gli altri rimplassanti per esempio a Torino abbiamo visto come il match ha cambiato in ultima minuto. Ringraziamo il tecnico Marco Baroni in questo caso domande per Matteo Ghendusi per motivi di tempo vi chiedo cortesemente di fare una domanda a testa i tempi UEFA sono ristretti e per quanto riguarda le domande di qua abbiamo Justulin poi Faccini e passiamo di qua a Catena prego Ciao Matteo buon pomeriggio ti voglio chiedere di due tuoi compagni di squadra due tuoi ex anche compagni di squadra il primo è quanto sei sorpreso da questo ambientamento istantaneo di Nuno Tavares e quanto manca secondo te a Gigo per essere pronto per il suo esordio? C'è vero che ho giù durante più di una con il Sago e Nuno Tavares a Marseille come ho detto prima che Nuno signale a Lazio ho detto che il sarà l'un dei migliori latere di questo e continuo di le dire perché è un jeune giro che ha veramente molto di qualità che ci apporte molto abbiamo visto il début di sa sa con con 4 pas decisivi quindi è un giro veramente molto importante per è un giro che fa parte dei migliori a suo posto in Europa Samuel Giggo aveva un problema di blessure ma il viene con il è un giro che va molto fare bene perché ha la mentalità di voglio gano fa bene bene non non peur di sortire su le giro e ha un spesso anche è un giro che va anche molto ai ai in le fase defensivo e come ho detto sono due giocatori molto importanti per la Lazio e ci hanno rinforzato per avere una migliore equipe secondo me sono due giocatori molto importanti per la Lazio e ci hanno rinforzato per rendere migliori la nostra squadra io ho giocato con loro più di una stagione a Marsiglia Nuno avevo detto che secondo me era uno dei migliori laterali ci porta molta qualità davvero ha già fatto quattro assist e secondo me è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo per quanto riguarda Giggo è arrivato che non era nelle migliori condizioni fisiche era infortunato però ritornerà presto e ci farà sicuramente bene la sua esperienza il suo vigore nella fase difensiva Ciao Matteo dall'arrivo del mister state segnando tanto ma ora comincia una nuova fase affrontere delle migliori difese d'Europa la Juventus anche il Nizza prende pochissimi gol ti chiedo quanto è importante per blindare la difesa incrementare i numeri del possesso palla tenere di più la palla che a Torino vi è riuscito molto bene nel primo tempo meno nel secondo e poi dato che la Lazio ha giocato tantissime edizioni di questa competizione e soprattutto è stata inserita in prima fascia sentite come dovere il fatto di arrivare tra le prime otto di questa competizione grazie che che mette molto l'intensità, che attende molto di questi giocatori, che ha sempre fatto dei bons risultati con queste equipe come l'Anse le settimane. Quindi mi attendo davvero a un match difficile, ma bisogna continuare a giocare come abbiamo fatto questi ultimi anni. E come ho detto, d'abord di concentrare su noi, prima di concentrare su Nice o la Juventus, e d'abord di pensare a noi. Allora, partiamo dalla parte che riguarda dove possiamo arrivare in Europa League. Possiamo andare lontano, è una competizione difficile. Io l'ho giocata diverse volte, sono arrivato anche in finale con l'Arsenal. Però abbiamo una buona squadra, un ottimo staff, io ho fiducia in loro. Se applichiamo le indicazioni del mister, possiamo sicuramente arrivare lontano. Per quanto riguarda il Nice che affronteremo domani, io so che hanno una difesa solida. Poi conosco bene il loro allenatore, Franck Hesse. Era al centro di formazione a Lorient, quando c'era anche lui. Ed è un allenatore che chiede alle sue squadre molta intensità. Ha fatto bene l'anno scorso a Lens e continua quest'anno a Nizza. Ma noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo. Dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi. Catina. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Io volevo chiederti una cosa riguardo le tue motivazioni. Nel senso che il Nizza è una squadra che tu hai conosciuto già al Marsiglia, ma dove sei stato anche al centro di una partita molto accesa, molto particolare, è con la tifoseria del Nizza. Quindi se per te questo può essere un derby nel derby, non solo a livello di averli già incontrati, di nazionalità, ma anche se quella partita la ricordi ancora, perché fu una partita veramente, veramente fuori dal mondo. Quindi se è un modo per caricarti ancora di più, oltre alla carica, ti darà chiaramente il mister Baroni. Grazie. Non, c'è vero che c'è un match un po' speciale, già per quando un franzai gioia a l'estranger, è sempre felice di trovare un'equipe franzai, ma è sicuramente il match contre Nizza, on va dire che c'è un match un po' speciale, perché in un'anzi giro dell'Olympia di Marseille, c'è sempre stato un match con molta intensità, un match che è stato molto importante anche per il mio ancien club. Quindi, oggi, io sono a la Lazio, io penso che la Lazio sarà un match come on gioia a un poli sui weekend, quindi, non importa l'equipe contro chi on va giocare, sarà solo di concentrare su noi stessi, di applicare le consigli del coach, e io so molto bene cosa ho da fare sul terreno, e, non importa l'equipe contro chi on gioia, on essaia d'abord di concentrare su noi stessi, applicare lo che facciamo a l'entrazione, e, non importa l'equipe che abbiamo in fronte, sarà di giocare un buon fottobolo il più importante. È un match speciale, lo è per un franzai che gioca all'estero, trovare una squadra francese. Contro l'inizio è ancora più speciale, in realtà, perché contro, quando ci giochiamo contro il Marsiglia, è sempre un match molto intenso, è molto considerato, è molto importante. Però io oggi penso soltanto alla Lazio, quindi non importa chi abbiamo davanti, l'importante è concentrarci su di noi, e rispettare le consegne che ci dà il mister. Dobbiamo essere veloci, Sticozzi, prego. Matteo, buonasera. Volevo chiederti, vista da dentro, hai la sensazione che questa Lazio sia più forte della squadra in cui hai giocato lo scorso anno? C'è una... C'è una... C'è una equipe totalmente differente di la settimana. Abbiamo un nuovo coach con una filosofia di gioco che è differente dei coach che ho conosciuto la settimana. con la settimana. Abbiamo di nuovi giocati, quindi forsemente tutto è differento con la settimana. Abbiamo giocato su il classement che ci si tratteremo in fine settimana, su gli obiettivi che si vogliono. Ma io sono molto felice di essere qui, perché sape che abbiamo un super coach che ci fa molto progressare, come abbiamo visto dal primo settimana, abbiamo già molto progressato individuamente e colleghi. Io penso che abbiamo dei dei giocati giocati e che si può fare una magnifica settimana. come ho detto, è una equipe totalmente differente della settimana. Ma io credo molto in questa equipe. Io so che potremo ottenere gli obiettivi se continuiamo a lavorare come stiamo facendo in questo momento. C'è davvero molto esplorso in questa equipe e ho una forte croyance che possiamo fare una superbe settimana. ma io sono molto contento di essere qui con questo super coach esattamente quello che ha detto di progredire che ci aiuta a progredire individualmente e collettivamente. Io penso che abbiamo degli ottimi giocatori, possiamo fare una bella stagione e ho molta speranza che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. L'ultimo due flash, Castellano, prego. Ciao Matteo, tu sei un leader tecnico, carismatico in campo, si vede anche quando giochi, ma il tuo obiettivo è anche quello di diventare capitano di questa Lazio, un punto fermo anche con la fascia al braccio e che poi ti possa portare più avanti anche dopo l'addio di Griezmann a essere un punto fermo anche nella nazionale francese. Grazie. C'è Gianci, grazie per le... Non, non, io cerco solo di restare io stesso, di restare a mia place. Io so che sono in questa squadra, io so che posso apporter per questo club. E il più importante per me è di integrare bene, in questa squadra, di sempre apporter le miglior di me stesso, di essere il miglior per aiuto il mio club. Quindi, abbiamo un po' di giocatori importanti in questa squadra. Io penso che abbiamo un'equipe... Abbiamo alcuni capitani che sono che sono molto importanti per noi, con molta esperienza. Ma siamo tutti iniziati a parlare prima le match, dopo le match, dopo le match, e c'è ciò che fa la forza di nostra squadra. Non c'è di giocatori che è al-dessus di un altro, e c'è ciò che fa la forza anche dopo il primo di questa squadra. Quindi, come ho detto, il più importante è di restare io stesso, di poterare molto a questa squadra perché io so che posso aiare molto a questo club. Il y aveva una question par rapporto alla nazionale? L'effetto di avere queste responsabilità, può essere poterciato essere molto buoni al club e poi vedremo per la selezione, ma come ho detto, prima di andare in selezione bisogna essere molto buoni con la nazionale. Bene, per me l'importante è restare al mio posto. Io so dove sto in questo momento e so quello che posso fare per la squadra ed è tanto. So che devo dare sempre il meglio. Abbiamo già molti giocatori e capitani importanti che hanno esperienza. L'importante è che ci parliamo molto e questo ci dà la forza. Non c'è nessuno che è al di sopra degli altri. Per quanto riguarda la nazionale, è bene, io quello che voglio fare è fare bene per la mia squadra di club e poi in nazionale vedremo. Chiusura, Beccarisi, prego. Sì, ciao Matteo, buon pomeriggio. Ritorno alla partita di domenica perché forse lì abbiamo visto quello che è l'ultimo step che ti può far crescere ancora di più anche a livello internazionale, quel riempire l'area di rigore che chiede tanto anche il mister. di diventare un giocatore ancora più importante a livello internazionale. Grazie. Sì, è vero che è un obiettivo che ho in mente di essere molto più forte nei 30 ultimi metri perché mi arriva po' di volte in un match di me ritrovare in posizioni di fare la dernière pass decisiva o di fare il dernier butto e c'è qualcosa su cui ho cercato di lavorare. Ovviamente se i miei attacchi possono marcare più di butto è il più importante ma sì, è un obiettivo che ho in mente di marcare più di butto con la Lazio di essere molto più decisivo ma io so che il coach attende qualcosa di me e io so dove sono sul terreno non è la mia priorità di marcare ma io so che è un domenio in cui sono iniziato e in cui voglio essere migliore all'interno di tempo. Bene, mi capita spesso di essere decisivo negli ultimi 30 metri mi succede di fare assist o fare anche gol io ci sto lavorando chiaramente l'importante è che gli attaccanti segnino di più e che la squadra segni di più però ho anche messo come obiettivo quello di essere decisivo per questa squadra anche se il coach in realtà si aspetta cose diverse da me per cui non è comunque la mia priorità. grazie a voi per la presenza grazie a chi ci ha seguito in questo caso live grazie al tecnico Marco Baroni e al centrocampista della Lazio Matteo Gendusi appuntamento fra poco confermato 17.15 l'ingresso per quanto riguarda il fronte dell'allenamento con i primi 15 minuti aperti e media grazie a domani grazie a voi grazie a voi